Buongiorno appassionati di Homestyle, benvenuti nelle Dimore Uboldo. Dove sorgeranno le Dimore Uboldo? In questo breve video vi illustreremo, oltre al punto esatto, il perché le Dimore Uboldo sorgeranno in una location strategica per la massima qualità di vita. Le Dimore sorgeranno Uboldo, in via Legnano, all'altezza del civico 584. Uboldo è un luogo sereno dove vivere, per la tranquillità e privacy, adatta ad una dimensione familiare. Un luogo dalle radici antiche, apprezzabile per la qualità di vita, dove poter passeggiare nel verde, fare sport all'aria aperta, sempre serviti da attività commerciali e i servizi necessari, ma senza il caos cittadino. Dalle Dimore, comodo, a piedi, raggiungere il bus che porta alla vicinissima Saronno, oppure in auto, è possibile raggiungere Saronno in soli 5 minuti. Saronno è un elegante salotto urbano, una città viva e ricca di esercizi commerciali, ristoranti e molto altro. Un punto di riferimento cittadino a pochi minuti da casa. E se si vuole raggiungere Milano? Grazie alle ferrovie Trenord, da Saronno è possibile raggiungere Milano-Cadorna in soli 20 minuti. Nello stesso tempo che si impiega in auto dalle Dimore, si può raggiungere Milano City Life. Vuoi scoprire di più sulle Dimore Oboldo? Prenota un appuntamento sul nostro sito classon.it Saremo lieti di accoglierti nello showroom in centro Oboldo. Alla prossima!